Gentili radioscoltatori, buon pomeriggio, dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Edizione speciale di Tutto il calcio minuto per minuto dedicata al Totomercato. Il gioco ideato da Carlo Nesti con la collaborazione di Simone Toninato, Andrea Bini e Massimo Carboni. Sono collegati dai vari campi Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Alfredo Provenzali, Tonino Raffa, Ezio Luzzi, Emanuele Dotto e Riccardo Cucchi. Vai pure Enrico Ameri! Grazie, grazie Bortoluzzi. Lo scopo del gioco è indovinare con almeno 72 ore di anticipo rispetto alla pubblicazione sulle gazzette dello sport, gli acquisti, le eccessioni del mercato, del calcio e linea Ciotti. Temperatore inapprezzabile, cielo azzurro come gli occhi di Ava Gardner e applausi scruscianti del pubblico per il Totomercato. Stessa passione, stesso programma, come sa anche la mamma. Meritavo di essere io, con la mia classe, ad aprire i collegamenti, ma Ameri mi precede sempre. Linea Provenzali! Dal Fredo Provenzali, mi raccomando, scaricate l'app Totomercato di Carlo Nesti e linea che torna a Raffa. Totomercato! 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 Scaricate l'app di Carlo Nesti, linea a Ezio Luzzi. Risultato di 0-0, ma poco fa la palla ha sorvolato la traversa. So che non ve ne frega niente, ma sono qui per raccomandarvi di giocare al Totomercato. Vi assicuro che interromperò solo in occasione di episodi importanti, come le rimesse laterali e mai in caso di gol. Linea adotto! Riprendiamo la linea dal collega Luzzi e ribadisco l'invito a scaricare l'app Totomercato di Carlo Nesti, linea a Riccardo Cucchi. Grazie, grazie adotto. Mi raccomando, lo scopo del gioco è indovinare con almeno 72 ore di anticipo rispetto alla pubblicazione sulla Gazzetta dello Sport, gli acquisti, le cessioni del mercato del calcio. Dunque, scaricate l'app Totomercato e linea che torna a Roberto Portoluzzi. Si chiude questa edizione senza tempo di Tutto il calcio, minuto per minuto. Ringrazio i colleghi e rivolgo un caloroso in bocca al lupo a chi si è iscritto, a chi si scrive e a chi si iscriverà al Totomercato di Carlo Nesti. Dallo studio centrale non dimenticatevi di noi. E via la sigla! Dallo studio centrale non dimenticatevi di noi.